venerdì 13 novembre 2020 oroscopo paolo fox 13 novembre 2020 eccoci a venerdì due punti state contando le ore che vi separano dal weekend dai che ci siamo quasi ma procediamo un passo per volta e vediamo come andrà questa giornata quali saranno i segni favoriti dalle stelle quali quelli che invece dovranno affrontare maggiori difficoltà oroscopo paolo fox 13 novembre 2020 ariete toro gemelli ariete si paziente non è molto facile in questi giorni andare d'accordo con il partner sul lavoro più ci avviniamo al 2021 più arriverà qualcosa di bello nella giornata di oggi gli ariete hanno una forza che li porterà a reagire alle intemperie con vigore tuttavia inserata l'opposizione della luna potrebbe iniziare a farsi sentire e provocare qualche disagio c'è qualche ritardo nella vita pratica che può portare a qualche insofferenza soprattutto per questo segno a cui se c'è una cosa che proprio non piace sono i ritardi sono tante le cose che si vogliono fare ma per ora è meglio alleggersirsi di responsabilità punto aperte virgolette toro sabato e domenica la luna è opposta e porterà qualche momento di disagio cerca di risolvere i piccoli problemi in amore sul lavoro qualcuno ha avuto conferme ma bisogna accelerare i tempi per fare richieste la situazione generale è buona il toro potrebbe avere qualche ripensamento oggi quando qualcosa non va nella propria vita o in quella dei propri cari spesso è il toro si carica di tutte le responsabilità essendo un segno molto pragmatico bisogna capire quali sono le proprie aspettative riguardo al futuro aperte virgolette gemelli la luna oggi è favorevole giornata positiva in amore sicuramente meglio rispetto alle ultime due sul lavoro è arrivato il momento di risolvere alcune questioni la situazione astrologica te lo permette quella di oggi è una giornata non troppo piena di energia per il segno dei gemelli ma non bisogna arrendersi perché il 2021 porterà dei bei momenti di creatività quando le stelle sono protettive anche se ci sono momenti complicati si riesce a uscirne senza gettare la spugna in amore ci si può liberare di un peso e sul lavoro si potrà chiudere qualcosa che non va le previsioni per cancro leone e vergine 13 novembre 2020 cancro stelle controverse in amore che potrebbero rimettere in discussione un rapporto sul lavoro cerca di gestire i problemi con tranquillità e non fare azzardi con i soldi leone momento un po difficile per l'amore a fine mese ci saranno altri problemi sul fronte lavoro aumenta il nervosismo e qualcuno potrebbe essere invidioso il cancro è un po agitato in questo venerdì ma questa agitazione può trasformarsi in passionalità c'è una dissonanza della luna per questo non ci si sente in perfetta forma ma ad ogni modo la situazione generale è positiva perché ci si libera di inutilizzavorre il cancro è tra i segni che possono ottenere tanto nelle prossime settimane punto aperte virgolette leone momento un po difficile per l'amore a fine mese ci saranno altri problemi sul fronte lavoro aumenta il nervosismo e qualcuno potrebbe essere invidioso il leone è a caccia di ammirazione in questa giornata ma non per vanità per ritrovare sicurezza in se stesso quando questo segno si sente ammirato sta meglio il leone infatti ha proprio bisogno di sentirsi applaudito e apprezzato per quello che fa non è un caso che questo è un segno sempre molto competitivo questo giovedì aiuta a gestire al meglio le tensioni del quotidiano punto aperte virgolette vergine venere dal 21 transiterà in modo attivo se c'è una persona che ti interessa fatti avanti sul lavoro sei molto stressato e negli ultimi giorni ti stai dando tanto da fare quella di oggi è una bella giornata per il segno della vergine che si prolungherà fino a venerdì questa settimana è iniziata in modo pesante e sono tanti quelli che devono risolvere un problemino fisico c'è da affrontare una stanchezza maturata già dagli ultimi mesi in cui ci si è dati fin troppo da fare nuovi amori all'orizzonte punto aperte virgolette le previsioni per bilancia scorpione sagittario secondo paolo fox oroscopo paolo fox 13 novembre 2020 bilancia luna e venere sono favorevoli buone occasioni in amore sul lavoro un piccolo affare può andare a buon fine devi solo accorciare i tempi la bilancia ancora una bella venere in transito nel suo segno ma in alcune giornate mantenere la calma non è facile oggi nel segno della bilancia c'è anche la luna che provoca una forte emotività che se non viene controllata potrebbe provocare qualche guaio manca solo un mesetto alla liberazione definitiva di molti fastidi e si potrà tornare ad avere buone occasioni o risolvere diversi problemi gli amori vanno consolidati punto aperte virgolette scorpione la luna è favorevole buone notizie per i sentimenti potresti anche innamorarti sul lavoro ci sono problemi economici perché le spese per la casa o per i figli sono troppe lo scorpione si avvia verso un fine settimana importante perché sabato la luna sarà proprio in questo segno avere un buon cielo può anche significare che ci si lasci andare alle emozioni e agli amori ed è proprio questo l'invito questo segno ha sempre un gran bisogno d'amore anche se non lo dice e aspetta che siano gli altri a muoversi punto aperte virgolette sagittario la luna è favorevole buon recupero nella sfera dei sentimenti sul lavoro molti hanno voglia di dare una svolta e di fare nuove esperienze il sagittario è pronto a una rinascita che sarà evidente nel 2021 oggi resta una giornata un po affaticata e in generale si è sottoposti a un forte stress ma questo non deve limitare le azioni da domenica andrà meglio punto aperte virgolette paolo fos 13 novembre 2020 capricorno acquario e pesci capricorno mese importante per i sentimenti se c'è una persona a cui tieni se hai un lavoro part time ora potresti trovarti davanti a una serie di ostacoli da superare la settimana fino a oggi per il segno del capricorno è stata un po riflessiva e ci si è sentiti giù di corda questo segno spesso si mette in gioco in ambiti che non gli appartengono proprio perché pensa che essere tradizionalisti sia un errore però poi si ricrede bisogna recuperare dal punto di vista zico fisico e anche l'amore in questi giorni sembra essere un po lontano aperte virgolette acquario oggi la luna è favorevole le storie d'amore che nascono in questo periodo sono molto promettenti sul lavoro potresti iniziare a superare alcuni problemi del passato e a fare un lavoro per conto tuo in queste 48 ore l'acquario deve cercare di tenere tutto sotto controllo cosa un po complicata per i nati sotto questo segno l'acquario in questo periodo ha bisogno di avere al proprio fianco qualcuno che dia un po di regole e aiuti a superare il caos questa è una giornata faticosa a livello psico fisico aperte virgolette pesci non sottovalutare un accordo più si avvicina la fine del mese più arriveranno buone opportunità e tutto andrà per il meglio in amore sul lavoro sei un po pigro e non hai voglia di mettere in pratica i cambiamenti rimandi troppo il segno dei pesci potrebbe sentirsi lontano dalla persona che ama sia per motivi personali per motivi di distanza fisica o per qualche disaccordo nella coppia bisogna puntare nelle giornate di sabato e domenica perché possono portare qualcosa in più punto aperte virgolette grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti